A Novivelia torna la paura a causa di un nuovo focolaio Covid registrato all'interno di una casa di riposo per anziani. Al momento uno degli ospiti è ricoverato nel reparto Covid del presidio ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania. Il sindaco di Novivelia, Adiano De Vita, nonché direttore sanitario del nosocomio, si è subito attivato insieme alle autorità sanitarie nel cercare di costruire la catena dei contatti. Già in autunno un focolaio era scoppiato tra i cittadini della comunità di Novivelia ed era partito proprio dal San Luca di Vallo della Lucania. La popolazione fu sottoposta in tale circostanza ad uno screening di massa. Naturalmente tutta la cittadinanza è in apprezzione.